Come la maggioranza della città vuole? Uno scatto di reni e un salto di qualità in materia di rifiuti. Io quindi parto da qui. Ovviamente avrei molti argomenti per sottolineare comportamenti e condotte che non ci hanno affatto agevolato in questi tre anni. Le cose cambieranno perché tra un po' saremo città metropolitana, Sapna e Asia andranno insieme, ragioneremo tutti insieme. Se si dirà no all'inceneritore sarà no non solo a Napoli ma anche a Giuliano. Ci sarà una partita geopolitica completamente diversa. Però oggi invece da sindaco devo pungolare a fare sempre di più. Questo è il mio obiettivo. Quando c'era l'emergenza rifiuti ai tempi di Caldoro e Iervolino noi ovviamente non guardavamo erbacce e carte, adesso tu nel primo discorso che hai fatto prima ci fai quasi innamorare del sacchetto. Ho fatto un discorso a un certo punto che ci viene quasi la voglia di dire quasi quasi la monnezza è bella. Quindi non è così. Nel senso che noi ci dobbiamo abituare che non dobbiamo vedere più le carte, non dobbiamo vedere più l'erbaccia. Cioè Napoli si deve abituare alla cultura del bello. Quindi i cittadini da un lato stanno partecipando in maggioranza. Lo diceva Raffaele del Giudice prima, lo diceva Chiosi, lo diceva Sodano. Però ancora ci sono troppi incivili. Io stamattina ho avuto un elenco dettagliato di civili tra virgolette nobili della nostra città. Cioè non parliamo di, come dire, come qualcuno potrebbe pensare il popolino, ma persone che sono molto attrezzate, titolari di importanti esercizi commerciali, che hanno questa abitudine di scaricare a qualsiasi orario e distruggono un lavoro complicato, faticoso. Quindi io nei prossimi giorni, sottolineando ancora con maggior forza quello che giustamente diceva il Presidente Chiosi e che più volte mi sollecita il Presidente del Giudice e lo stesso Vice Sindaco, nei prossimi giorni io incontrerò il Comandante Ciro Esposito, il Capitano del Gaudi. L'ho già fatto con loro più volte. È chiaro che loro hanno difficoltà di uomini, ma io vorrei dedicare il mese di ottobre a una dura campagna non solo di civiltà, come voi state facendo, ma anche di repressione. Perché io credo noi dobbiamo dare un segnale che anche le altre forze dell'ordine, perché ripeto, sversare in modo non regolare è un illecito, è un illecito amministrativo, è in alcuni casi addirittura un illecito penale. Quindi si ha l'obbligo. Come noi giustamente vediamo certe volte le forze dell'ordine, come l'altro giorno una pattuglia dell'arma dei carabinieri che aveva fatto viabilità su via Tasso, creandosi un certo tappo, io credo che tutte le forze dell'ordine devono contribuire. Devono contribuire tutti, perché noi vogliamo che si innalzi il livello di decoro e bellezza della nostra città. Un altro impegno che vorrei sottolineare. Noi in bilancio per la prima volta abbiamo dedicato quest'anno, grazie all'approvazione del piano di riequilibrio, un capitolo ad hoc per la bonifica di tutte le discariche. Io vorrei ricordare che le discariche, tra l'altro purtroppo molto spesso, e anche qua abbiamo dati statistici, non prodotte da cittadini napoletani della città di Napoli, e le discariche sono a confine, come voi sapete, con altri comuni, e anche su questo abbiamo prove e dati che distribuiamo nei prossimi giorni, abbiamo già ridotto della metà le discariche presenti, con i soldi che abbiamo messo noi bonificheremo nel giro dei prossimi mesi tutta la città dalle discariche che siamo stati abituati a vedere per troppo tempo. Ovviamente non basta la bonifica, si deve recintare e si deve videosorvegliare, e anche per questo abbiamo trovato le risorse. Ai quartieri spagnoli è andata bene la prima sperimentazione, è vero quello che diceva Chiosi, e anche del giudice, molti non ci credevano, invece io sono testimone diretto di molti incontri fatti nei quartieri spagnoli dove i cittadini dei quartieri, di ogni estrazione, di ogni livello sociale, di censo, ci chiedevano la raccolta differenziale dei quartieri. È cominciata bene su sollecitazione delle scuole, di Piazzetta Monte Calvario, sono stati i primi cittadini civici attivi a segnalarle, è andata bene, adesso si estende nella prima municipalità. E quindi io qua vorrei lanciare subito una sfida a Sodano e a Del Giudice, soprattutto che siccome sono assolutamente d'accordo all'eliminazione del cassonetto, il prossimo passaggio di una raccolta porta a porta così mirata, visto anche lo straordinario, al di là di ogni inrosa previsione, presenza di turisti nella nostra città, Aeroporto Napoli più 35% il mese di agosto, è il centro storico. Perché è ovvio che noi dobbiamo bonificare dei cassonetti innanzitutto i vicoli e i vicoletti della nostra città. Quindi io credo che in questo modo è una grande sfida per tutti. Andando a concludere, la sfida la dobbiamo raccogliere tutti e anche le lavoratrici e i lavoratori di Asia, ai quali va il mio applauso e il mio ringraziamento perché ogni lavoratore vive in condizioni complicate, lavora in condizioni difficili, l'età media dei lavoratori di Asia è di 59,5 anni, quindi insomma parliamo di un'età media, mi pare questa è l'età più o meno, 59-58, perché questa era la media, però la sfida è di tutti. Ci vuole la capacità anche di scegliere insieme moduli organizzativi diversi. Guardate, questa amministrazione ha raggiunto un obiettivo nel momento più difficile, cioè quello di salvare le aziende pubbliche, rinforzarle, consolidarle, non licenziare un lavoratore e non aprire servizi pubblici essenziali all'esternalizzazione e al mondo, diciamo, un certo tipo di privato che si era fatto avanti nel passato nel settore dell'eugenio urbano. Però questa sfida la dobbiamo raccogliere tutti e noi non ci accontentiamo, io perciò guardo sempre oltre, non mi accontento del risultato raggiunto. Abbiamo diverse isole ecologiche, questo è merito di del giudice, è merito della squadra, del nuovo direttore, di tanti che ci lavorano, dobbiamo avere più isole ecologiche, si deve raccogliere ancora meglio la spazzatura, c'è da fare il rassetto ancora meglio, perché noi oggi non siamo più la città che ha superato l'emergenza, questo non deve essere dato per scontato perché è stato un risultato che certe volte anche io mi chiedo come abbiamo fatto senza soldi. Se penso ai poteri normativi, ai soldi che avevano prima, dove c'era un Presidente della Regione che era commissario, che aveva le risorse, che c'era una catena di comando identica tra Regione, provincia, comune, erano tutti la stessa maggioranza politica e bene ci siamo insediati con 2500 tonnellate senza soldi, quindi questo significa che è merito solamente di donne e di uomini che hanno lavorato, non è merito né di Spirito Santo né di alleanze politiche né di altro e anche di aver puntato sul pubblico. Oggi ho registro anche a questo tavolo una convergenza istituzionale su questa strada, adesso c'è bisogno di dimostrare che Napoli può essere anche una città del decoro, del diserbamento, dello spazzamento. Oggi Asia, seppur in difficoltà come il Comune di Napoli e continua ad essere in difficoltà, ha una situazione economica diversa. Oggi ci possiamo consentire, tra virgolette, il lusso di investire in nuove spazzatrici, questa è la vera sfida. Mentre non possiamo ancora assumere, possiamo fare degli investimenti. Dobbiamo far sì che le gare siano rapide, siano fatte bene. Insomma, oggi quello a cui puntiamo è quello di dimostrare che Napoli non ha solo superato l'emergenza, non ha solo la maggioranza dei cittadini che sono persone civili, ma che è in grado di vincere una sfida in cui non siamo più un milione di abitanti. Con tutti i turisti che abbiamo, noi ogni giorno abbiamo tantissimi cittadini in più. E nei prossimi giorni, con lo statuto della città metropolitana, disegneremo anche insieme la nuova area metropolitana in materia ambientale. Quindi io sono convinto che i quartieri spagnoli risponderanno alla grande e sarà una bella sfida perché viene da una zona difficile, complicata, molto eterogenea da un punto di vista sociale, ma questa richiesta ci è venuta dal popolo dei quartieri spagnoli. Noi l'abbiamo accolta questa sfida e sono convinto che così come per la seconda municipalità, anche per la prima raggiungeremo risultati egregi e poi sarete anche voi, amici e amici giornalisti, ovviamente giustamente a verificare, controllare, appungolare e a farci sapere se le cose stanno andando bene o stanno andando male o si deve qualcosa aggiustare.